segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sicuramente quegli uomini che vedete col salvagente rosso che tirano a bordo i migranti non hanno deciso di uscire in mare né questa notte né di non uscire qualche notte fa e quindi è del tutto evidente che noi possiamo solo ringraziarli quei signori col salvagente rosso al collo e cioè tutti quelli che lavorano per la guardia costiera e che non possiamo diciamo indicare loro come possibili responsabili di un mancato salvataggio siamo certi che se fossero stati mandati in mare avrebbero dato il massimo come fanno tutte le notti come hanno fatto anche stanotte credo interpretare anche il pensiero di Antonio ma non c'è dubbio non c'è devono degli ordini devono eseguire degli ordini e ma se gli ordini non ci sono sono contraddittori appunto non ripeterò le cose che hai detto bene tu a questo punto però sisto che stiamo parlando di responsabilità politiche ecco io spero che nelle ultime nei prossimi giorni anche il presidente del consiglio di ritorno dal viaggio in india negli emirati dica qualcosa perché la voce di giorgia meloni manca in tutta questa vicenda manca dal fine fin dalla sera ma non parlo ovviamente delle del cordoglio che certamente espresso parla parlo della voce di gove del governo della massima autorità di governo che deve dirci qualche cosa rispetto a tutto il tema che questa vicenda purtroppo ha sollevato